Un saluto a tutti dal vostro Zedcastle e bentornati al Trono del Re. Oggi voglio parlarvi del mutante più famoso di tutto quanto l'universo Marvel. È piccolo, peloso e costantemente incazzato. Di chi sto parlando? Ma naturalmente di Logan, a.k.a. Wolverine! No, vabbè, ma questa la tagliamo, dai. Sigla! Fin dai tempi più antichi, il trono di ogni regno ha avuto il proprio re. Molti re, molti troni, troni di sfade, troni vuoti, troni senza paragoni. Fino ai giorni nostri, fino al trono che rende re ogni uno che ivi si segga. Per leggere i fumetti. Il mutante di Adamantio nasce nel 1974, ad opera di Lin Wayne, con i disegni di Herbert Triumph e John Romita Senior. In effetti, anche dopo la sua entrata negli X-Men, grazie al professor Xavier, non si era ancora fatta luce su quello che era il suo passato, la sua storia, il suo vero nome. Abbiamo dovuto aspettare ben 17 anni prima che l'inglese Barry Windsor Smith ci raccontasse l'evento che ha dato veramente forma a Logan, a.k.a. Wolverine. Chris Claremont, lo storico autore Marvel, sia delle testate X-Men che di Wolverine, aveva preso in mano il personaggio già da subito, diciamo intorno alla seconda metà degli anni Ottanta. È stato lui a dare il nome Logan e soprattutto a dare un po' quella forma che oggi tutti noi conosciamo del personaggio. Però, sapete, aveva un'idea molto precisa in testa, un percorso ben delineato, ma divergenze artistiche lo portarono a lasciare la testata. Ed è proprio nel 1991 che entra in gioco Barry Windsor Smith, il quale fa tutto da solo, scrive e disegna, e ci consegna una storia pulp, senza sconti, una storia veramente cruda e potente. Raccoglie tutto quello che è il trend del momento, creato da Frank Miller con Il ritorno del Cavaliere Oscuro, e tra l'altro una storia che, più che sui dialoghi, concentra tutta l'attenzione sui disegni. Una graphic novel che è un vero e proprio dramma a fumetti. Logan passa il suo tempo in Canada, tra una rissa e l'ennesima birra. Non sappiamo niente di lui, per quanto ci riguarda l'inizio della storia potrebbe essere un reglietto qualunque. Un reglietto che però non si ferisce mai troppo gravemente e che si rialza sempre. Ebbene, senza tanti preamboli, una sera qualcosa va storto. Viene aggredito da dei bastardi, sedato, narcotizzato, legato e rapito. E da qui ha inizio il dramma di Logan. A questo punto Logan smette di essere un essere umano. Viene trattato come un semplice oggetto, anzi, è il soggetto dell'esperimento. Arma X. Arma X, il che presuppone X come dieci, quindi forse ci sono altri nove esperimenti di cui non sappiamo nulla? Logan smette persino di essere il protagonista del fumetto. Tutto si concentra su tre figure misteriose. Il linetto professore, di cui non sappiamo nulla, che pare dirigere il progetto Arma X. Il dottor Cornelius, la vera anima scientifica di tutto quanto il progetto. E Ines, la collaboratrice, l'assistente, tanto misteriosa quanto inadeguata in questa storia di tortura. L'obiettivo? Beh, molto semplice. Creare il super soldato perfetto, grazie all'infusione con l'Adamantio, ovvero il metallo più resistente in tutto il mondo. E con una volontà totalmente azzerata, obbediente, perfetto, letale. La storia ha una narrazione così opprimente che solo il primo e l'ultimo capitolo sono narrati dal punto di vista di Logan. In tutto il resto del fumetto noi siamo degli spettatori, inerbi, delle atrocità che il mutante del mondo Marvel subisce e delle terribili conseguenze che questo avrà nella sua psiche. Pare che il soggetto sia stato scelto praticamente a caso, solo in virtù della sua indole particolarmente violenta. Nessuno sembra a conoscenza dell'importantissimo fattore di guarigione che caratterizza appunto Logan. E in un momento, mentre il professore e il dottor Cornelius batti beccano sull'infusione di Adamantio, l'assistente Ines nota qualcosa. Al cinema ci hanno abituato al bellone Hugh Jackman, alto, muscolosissimo, ma noi sappiamo che Wolvie è piccolo, basso, peloso e con questa pettinatura assurda. Beh, in effetti il paziente viene completamente depilato e rasato a zero, ma Ines a un certo punto nota qualcosa, vi dicevo. Ebbene, i parametri vitali di Logan cominciano ad andare completamente fuori controllo. Nonostante i narcotici, i sedativi, Wolverine sembra risvegliarsi, comincia a sentire tutto il dolore dell'esperimento e improvvisamente tutti i capelli gli ricrescono. E una concentrazione insolita di Adamantio avviene tra il polso e il palmo della mano. È la fine dell'uomo, Logan. È la nascita della bestia, Wolverine. La bestia selvaggia deve essere tenuta in gabbia, deve essere istruita, addomesticata. Ma come sapete, la natura non va d'accordo con la cattività. Prima o poi si ribellerà. E in effetti le prime avvisaglie si hanno quando Wolverine comincia a reagire a un certo tipo di stimoli. E purtroppo a farne le spese sono degli anonimi assistenti di laboratorio, delle guardie. Ma si capisce, si intuisce che sta accadendo qualcosa. La bestia si sta preparando. È come se a un certo punto attendesse la sua preda. Un gioco a tre, il burattinaio, l'uomo accecato dall'ambizione e la bestia selvaggia in cerca di preda. Non è un caso se Wolverine sia spesso associato a bestie selvagge, orsi, lupi, tigri. Perché in effetti lui comincia ad affinare tutte le sue capacità. Il fiuto, il sesto senso, le capacità visive e uditive. Wolverine è piegato, al limite estremo, ridotto ad una condizione realmente subumana. Ma è in attesa. In attesa della sua preda. La fiuta, la cerca, la vuole. Basta una piccola leggerezza, un piccolo errore e lui è pronto a saltare alla gola dei propri carcerieri. Ma siamo davvero sicuri che si limiti solo ai protagonisti di questa storia? O meglio, a quelli che vediamo? Questa graphic novel è un'esperienza visiva davvero eccelsa. I balloon sono molto spesso disordinati e colorati, come se fossero delle voci fuori campo che Wolverine, sedato, narcotizzato, sente, ma non riesce ad identificare con una singola persona. In particolare, la figura del professore è una figura talmente verosimile, talmente ben rappresentata, che verrebbe voglia di ucciderlo proprio. Vorreste essere voi a farlo. E fa capire tutto lo sdegno e il cinismo che Logan ha sempre provato nei confronti della vita. Quello che conta è l'azione. Cosa subisce Logan? E il grande segreto rivelato del perché lui ha la damantio all'interno delle ossa. Questo fumetto è tutt'altra esperienza rispetto al film che sicuramente avete visto. Qui è molto più crudo, è molto più drammatico. Si riesce all'interno delle pagine quasi a percepire il dolore che sente Wolverine durante gli esperimenti. I dialoghi sono essenziali, la trama è semplice. Un animale catturato, messo in gabbia e torturato, prima o poi si ribellerà e manifesterà tutta la sua vera natura. Ammesso che questa sia la vera natura di Wolverine. Finalmente Barry Windsor Smith ci svela il grande segreto della nascita di Wolverine. Ma lo fa solo con questo episodio. Ci narra questa storia di esperimenti, di laboratori, di dottori, di professori, di un animale in gabbia che si ribella, ma non va oltre. Vuole fermarsi lì, lasciare il punto di domanda. Chi è veramente Wolverine? Dove è nato? Dove ha vissuto? Ha amato qualcun altro, oltre a Jean Grey? Ebbene, dopo questa meravigliosa storia, che vi consiglio caldamente, sono dovuti passare altri dieci anni prima che il grande Paul Jenkins insieme a Dandy Kubert decidessero di svelarci tutto il mistero del passato di Logan aka Wolverine, creando nel 2001 il meraviglioso Wolverine Origins, di cui vi parlerò magari in un'altra puntata. Raga, naturalmente, grazie per essere stati qui con me al Trono del Re e se vi è piaciuto l'episodio, ovviamente, lasciate un casino di like, condividete con tutti i vostri amici e tramandate la passione per il vero fumetto. Ok, ragazzi? Noi ci vediamo alla prossima puntata. Mi raccomando, mettetemi nei commenti quali sono i vostri suggerimenti per il prossimo fumetto qui al Trono del Re. Naturalmente, un grandissimo saluto dal vostro Zet Castle. Yeah! Noi ci vediamo alla prossima puntata.